Incidenza dei positivi al 12% in Sicilia. Il consuntivo settimanale della protezione civile. Istituite quattro nuove zone rosse. Giuliana Miciche. Sono 909 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 7.561 tamponi processati con un'incidenza del contagio del 12%. La Regione, secondo il bollettino del Ministero della Salute, è sesta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 20, per un totale di 4.717. Il numero degli attuali positivi è di 23.705, con 853 casi in più rispetto al precedente report. I guariti sono 36. Negli ospedali ricoverati sono 1.183, 56 in più, e quelli nelle terapie intensive sono 158. 5 in più rispetto sempre a ieri. Ecco la distribuzione dei nuovi casi nelle province. Palermo 597, Catania 60, Messina 33, Siracusa 26, Trapani 78, Ragusa 34, Taltanissetta 53, Agrigento 28 e 0 a Enna. Ancora in riferimento ai consuntivi dei contagi in Sicilia, i dati relativi all'ultima settimana, dal 29 marzo al 4 aprile, elaborati dalla Protezione Civile, mostrano un ulteriore peggioramento della situazione. Nella settimana appena trascorsa i nuovi positivi sono stati 7.500, il 20,5% in più rispetto alla precedente. Non si superavano la soglia dei 7.000 nuovi positivi in una settimana dallo scorso 24 gennaio. Sale anche il numero degli attuali positivi, pari a 22.852, 5.852 in più. Così come sono in crescita le persone in isolamento domiciliare, 21.725, 5.698 in più. Anche i pazienti covid ricoverati in ospedale superano nuovamente quota 1.000, sono esattamente 1.127, di cui 153 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente i degenti ordinari sono aumentati di 154 unità e in terapia intensiva sono aumentati di 24. L'unico dato positivo è rappresentato dal calo percentuale del numero delle vittime. Nella settimana scorsa i morti sono stati 114, il 25,5% in meno rispetto ai 153 della settimana precedente. Complessivamente le persone decedute sono 4.697. Nel frattempo il presidente della regione, Nello Musumeci, con propria ordinanza, ha istituito quattro nuove zone rosse. Amoio Alcantara, in provincia di Messina, e poi Buscemi, Rosodini e Solarino, in provincia di Siracusa. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, sarà in vigore fino al 14 aprile ed è stato assunto l'intesa con i sindaci interessati e le aziende sanitarie locali.